Siamo stati invitati qua oggi in Foggia, in questo grosso campo sperimentale, in simbiosi tra Singente e Iara. Quello che a me personalmente ha più colpito è il discorso dei tecnici, i tecnici che ci hanno portato in questa struttura sperimentale e hanno egregiamente e brillantemente illustrato a noi questa bella giornata di sperimentazione. Grazie 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 Grazie